Allora le case non possiamo avere noi un trattato di Dublino che ci permette di accogliere chiunque da noi. Allora facciamo le quote, 28 stati, è un'unione? È un'unione sì o no? La chiamiamo Unione Europea. Hanno tolto la parola comunità perché si vergognavano. È unione diventata. Allora 28 stati e si dividono le quote. Ci dividiamo le quote di quello che possiamo assorbire. E quanti paesi sono disposti a prendersi degli immigrati? Quanti? 4, 5 su 28?